musica qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video iscrivetevi al canale per non perdevi niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione a a a a a li dovete trovare sono dappertutto e da nessuna parte non mi importa come ma fatelo come possiamo da soli signore dovete aiutarci io sono malato idioti micheletto arriverà presto con le mie armate e allora vedrete come muoiono facilmente gli assassini ti stai solo illudendo cesare guardie che stregoneria è questa è il diavolo è il diavolo è il diavolo Non temete, lo prenderemo! Sta bene! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti